Vedi, la vita matrimoniale si basa sulla quotidianità, quindi i filosofi litigano sul senso dell'esistenza, ma alla fine la coppia scoppia, perché uno va in bagno alle tardi notte, tira la catena e l'altro si sveglia. Provi un po' a indovinare chi è che tira la catena e chi è che si sveglia in questa parabolina. Beh, in effetti questa è una cosa che fa molto impazzare anche me. Lo vedi? Guarda che sta dando ragione a me. Lo sente come fa? Ma guarda che vivere insieme è più complicato, cioè ci si può ammazzare per una luce lasciata accesa di notte. O perché uno dei due urla sempre, non sto urlando. No, no, perché qualcuno non gioca troppo a basket. O su chi sta tre ore in bagno. Oh, per il telecomando. Beh, su questo almeno siete d'accordo? Su come litigare, sì. Tanto. Benissimo.